Strati ondulati nei depositi stratificati della regione polare nord. Gli strati visibili in questa immagine, situati vicino al polo nord di Marte, probabilmente hanno registrato i cambiamenti climatici globali del pianeta, in modo simile a quello che hanno fatto i ghiacci delle ere glaciali sulla Terra. Le stratificazioni appaiono qui ondulate sia perché gli strati pianeggianti sono stati erosi in crinali in valli poco profonde, sia perché gli strati non sono perfettamente orizzontali. Alcuni di questi strati sono stati troncati mentre altri sembrano essere stati schiacciati contro gli altri livelli. Questa è la prova di un periodo di erosione seguita da un periodo di continuo accumuli di ghiaccio. Gli orientamenti di entrambe le tipologie di strati sarà determinata dopo aver studiato la topologia della regione attraverso la realizzazione dell'immagine stereoscopica.